Preso da un'incredibile voglia di giocare ho deciso di riprovare a fare il primo boss nel tentativo di ottenere la più E guarda caso ci sono riuscito Ho anche scoperto dove si trova l'ultimo boss ovvero questa barchetta che avevamo allegramente ignorato E sono ripien crocs, due run e pugili di cui non so un cazzo se non due principali pattern di attacco Ma va bene così Ok Questo adesso dovrebbe fare una traffica di pugni suprema Oh cazzo No Dio No Ok Ho anche capito come si fanno i perish Cioè bisogna colpire praticamente tutto quello che è viola Ma vabbè Ora Queste qua è meglio Aspetta ma io non ho il Sì perfetto ho ancora il chaser quindi perché non usarlo Ok Tu prendi questo, questo e questo Ho proprio raffica di tre violentissima No No Ok 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 Vediamo come va Sta facendo Oh Salve Ah adesso sono divisi Ma l'energia Oh salve L'energia individuale Cioè devo ucciderli tutti e due Basta colpirli E hanno tipo gli HP cumulati Ammesso che qua ci siano cose chiamate HP Cazzo che sta facendo Oh salve Però avvisami Che è successo? È diventato una specie di Di Oh Di cosa È viola Penso che io Sì ok Devo colpirlo Perfetto Una tigre Cambia No 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 Dai Quanti Basta Ti prego Tanto lo so che Ecco appunto Sbaglio Merda Sì ma Ci vuole troppo tempismo No Ok Di nuovo Perché non riesco a fare gli danno Quando è in questa Questa cosa Dai di nuovo No Eh vabbè Finirà malissimo questa boss Fett Ma lo sento Impossibile che ci riesca a primo colpo E soprattutto è impossibile che ci riesca con due HP Quindi probabilmente ho appena buttato una mossa Dio Ci sono andato vicinissimo Dei tori Che fanno questi tori? Oh No No Cazzo No No Eh vabbè ma dai Sono troppe cose Tutte insieme È troppa confusione in queste Queste sezioni Ok Una tigra Quanto cazzo Dura sta boss fight E qua devo stare tipo attentissimo Che ho un HP Ok Adesso Oh ok Knockout Ah Ma sempre con un HP Ma che è Veramente una maledizione Vabbè Tanto tipo prenderò B Non ho fatto manco un Perry O C addirittura C meno C più Ah va bene Va bene Va bene Va bene Mi va bene così L'ho fatto a primo colpo Quindi mi va benissimo così Eh Qua è spuntata un'altra cosa E là è spuntata una Sì vabbè Il contratto lo so Lì è spuntato un ponte La vera domanda è Adesso che abbiamo finito Tutti i contratti Di quest'isola Che cazzo devo fare? Allora Qui c'è Una Mausoleo E ho un'idea di che cosa Sia in realtà Cioè Mi dice ready Però non c'è scritto Se è un livello Qualcos'altro Ora Visto che ho capito Come si fanno i Perry Penso che Eh ok Perfetto Finalmente l'ho capito Perfetto Perché l'altra volta Ho provato ad entrare In questo masoleo Ma praticamente Non ho fatto altro Che morire Perché non capivo Che cazzo dovessi fare Ma a quanto pare Sono tipo perriabili E qualsiasi cosa È perriabile Qua dentro Musica intensi Faiso ottimo Victory Perfetto Mi dà un bonus Mi dà un qualcosa Cos'è Eh Oh cazzo Ho cliccato per sbaglio Non mi sono neanche presentato Sono il crece leggendario Mi piace riconoscerti Stavo cercando per Per della magia E sono rimasto Intrappolta da questi Fantasmi Parlando di magia Accetta questo dono Ci sono altri masole Attorno alle isole Mi chiedo se Cosa E wonder Credo sia Mi chiedo Comunque Non lo so Qualcosa del genere A new super Ah Ho sbloccato Qualcosa Eh Fragmine magia Super art Ah ok Devo Equipaggiarlo Ah ok Aspetta Super art Devo Prendi questo qua Si chiama energy beam Ed è un devastante Attacco l'ase No L'ase Dove l'ho letto l'ase Vabbè Un devastante attacco Che esce fuori Dalla mia testa Solamente orizzontalmente Non ho idea di come cazzo Si attivi Ma va bene così Allora qua c'è questo dado E mi dice Che posso entrarci E penso che Che se l'ha stata Per la seconda isola No cos'è Ah ma questo è il tizio Quello strano Eeeh Ok Bellissima sta canzone Tra l'altro in sottofondo Eeeh No for the next title Prendi more marks Ok Prendi ci ha detto Che possiamo andare Alla prossima isola Si infatti Questa canzone È bellissima Comunque Ok Praticamente il vecchio Ci ha detto Di stare attenti Di continuare a resistere Che stiamo diventando Più forti Vediamo un po' Cosa c'è in questa Seconda isola Eeeh Boss Boss Tizi strani Boss Beh niente No ma un run and gun Gli lo potevano mettere qua Vabbò proviamo Con questo qua Superland Cimi E c'è la baronessa Von 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 Vediamo un po' Cosa c'è qua Un cono strano Una tizia strana Una casa che ha mangiato La tizia Oh È un budino Cos'è No 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 Ok Ok No 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 Bene Continuiamo così Ok Bene Ce l'abbiamo fatta Ma ho la sensazione che Ovviamente Non è finita Era troppo bello Per essere vero Oddio Mi insegue Questo coso è uscito Uno spadaccino da là Ah vabbè Ok Dobbiamo solamente schivare Quello che cade Come se fosse facile Ecco appunto Tipo mi sto qua No Non è consigliatissimo Tu muori Dio No Ok È morto È morto Perfetto Puori due Cos'è Tipo li devo uccidere tutti E poi uccido te No No Cos'è Oddio Questo cambia direzione all'improvviso Si Si cambia tantissimo direzione all'improvviso Ok tu muori No Vabbè però dai Non si è raggiato dal lato giusto Pure lei che ci spara Vabbè Ovviamente Dici tu Non basta mai Qua la sfida in sto gioco No Quindi bisogna farlo sempre più difficile possibile Ho un hp Tanto questa la perdo No Sbagliato Prego muori Ok Muori Non è morto Che cosa è successo Sono morto per il cavaliere Ah dai però mancava pochissimo Riproviamo Dai riproviamo Una spacca mascella Oddio mi segue Mi segue Io seguo lei col chaser Ok Oddio Basta fare tipo sto pattern Stranissimo E tanto lei Mi segue No non è vero Ok No Ah ok Fatto Perfetto Eh si era una spacca mascella A tutti gli effetti Era A strati Ok Esci fuori dalla stronza Oh no 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 Cos'è sto coso Cos'è No No Oh cazzo Va bene Basta schivarli Basta schivarli Però dove devo guardare Prima Sotto Sopra Destra Sinistra Vaffanculo Ok forse non dovrei Spiegare Un waffle È un cazzo di waffle Un waffle che vola No Cosa fa Oddio Si 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 dilata Tantissimo E c'è pure La stronza Là Che spara No Oddio Appelo No 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 Stammi il più lontano Possibile Essere in mondo Oddio che culo No 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 Dai che palle Però Quando si avvicinano Così tanto No 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 Ah Merda Tu muori Ok Quanto di vita Quanto vita Come l'ho detto Oddio che porro Pensavo mi colpisse Tipo Posso colpire te Adesso Si posso colpire te Muori 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 Oddio Oddio No Che Cazzo è Qualcosa Riposto Tipo per riarla Non penso Neanche ce l'ho Io provare Onestamente No infatti È quello Dai No 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 Oddio ma mi segue Ma dai Dai Non l'avevo vista Ma ero tipo all'inizio Ancora